Action Day Interforze nella terra dei fuochi. In campo 26 equipaggi per un totale di 56 unità appartenenti al raggruppamento campania dell'esercito italiano, al commissariato di polizia di Stato di Mondragone, ai carabinieri della compagnia di Mondragone, ai carabinieri forestali della stazione di Castelvolturno, alla compagnia della guardia di finanza di Mondragone, al reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Napoli, alla polizia provinciale di Caserta, alle polizie municipali dei comuni interessati e nonché al personale di SMA Campania. 9 attività imprenditoriali e commerciali controllate, di cui 6 sequestrate, 11 persone identificate, di cui 8 denunciate e 2 lavoratori in nero, 41 veicoli sequestrati, oltre 30.000 euro di sanzioni combinate, 3 nuovi siti di sversamento di rifiuti individuati, gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni, nonché esercizio abusivo della professione e i reati contestati. In particolare a Castelvolturno sono stati sequestrati un capannone industriale utilizzato per lo stoccaggio e la lavorazione illecita di rifiuti pericolosi e un'area adesso adiacente adibita a deposito abusivo di rottami. Negli impianti venivano normalmente bruciati rifiuti pericolosi, sequestrati anche un autogru utilizzata per la movimentazione dei rifiuti e attrezzature varie impiegate per la lavorazione degli scarti. Sempre a Castelvolturno è stata sequestrata un'area adibita ad attività di autodemolizioni abusive, su cui erano depositati 30 veicoli, un'ingente quantità di rottami, batterie, parti di ricambio e pneumatici venduti illecitamente.